Ragazzi porca puzzarda che non c'è altra puzzardaggine che non esiste, oggi spieremo i miei amici, praticamente ora sono, vabbè, normale, però praticamente cosa voglio fare? Voglio andare con i comandi chiaramente, a fare tante cosucce tipo a mettermi l'invisibilità, perché io ovviamente mi sono scordato, però effect give si fa, dunis e poi dopo invisibility. E praticamente ragazzi, perché voglio fare questo scherzo, perché voglio spiarli, non scherzo, perché non stiamo facendo gli scherzi, però vorrei spiarli perché appunto loro devono essere molto, molto, molto strani, lo sto vedendo io che si stanno comportando in modo strano ultimamente, che tipo stanno sempre insieme, sempre per le loro, e non so come mai, tipo, guarda adesso, stanno facendo, stanno entrando nella casa delle altre persone, non si devono permettere, dovrebbe essere, stanno, oh, prendo le casse, oh, prendo, eh no, no, perché, nonno stava shiftando sulla sega, non lo voglio sapere, è appena tolto un letto, questa roba è completamente, completamente, ecco, perché sta sulla sega, mi dissocio, non voglio saperlo, sinceramente, non voglio saperlo, io mi auguro che, oh santo, no, ha fatto un pisellino di terra, no, no, vabbè, ma lo sapevo io che questo fosse un vecchio pervertito, io ne ero sempre convinto, al 100%, ecco, cosa sta, sta mettendo altra terra, perché, ma sta griffando, ci stanno proprio griffando, avete capito cosa sta, Cioè, guardate che è la cosa più, più cattiva da fare, cioè, dovranno essere giustiziati nella, nella, nella cella delle giustiziamenti, capito, cioè, eh, proprio lì devono essere giustiziati, perché ragazzi, cioè, se non vengono giustiziati, questi qua, me li odio, cioè, fanno esplodere tutto il mondo, impazziscono, li odio dopo, devono essere, eh, proprio giustiziati, ma devono, proprio, eh, andare in prigione dappertutto, proprio, dappertutto, proprio, sono impazzito, ma perché mi stanno facendo innervosire, proprio mi stanno facendo girare le pappole, Allora, cosa sta facendo, cosa, stanno picchiando, stanno, ok, bene, questo, di solito, succede quando, magari, c'è un certo tipo di amore, venne la coppia, ecco, tipo, adesso, eh, chiaramente, c'era talmente tanto questo, eh, amore, però, capito, aggressivo, no, che si sono dovuti, mh, insomma, eh, a suonare un pochino tanto, però, allora, mi dissocio da ciò che ho detto, prima di tutto, e poi mi sono tolto gli occhiali, perché me li sono scordati, questi sono occhiali da vista per il pc, comunque, non so se, cioè, non, non da vista, Gratuati, e cioè, nel senso, solamente per fare, ma cosa stanno facendo, si stanno shiftando sui, ok, io mi sto dissociando, mi dissocio totalmente da ciò che stanno facendo, perché si stanno shiftando su degli alboroscelli, rini, forse per, ovviamente, per coltivarli, chiaramente, ma ovvio, no, cioè, questa cosa era ovvio, cioè, ma perché, cosa stavate pensando voi, cioè, ovvio che stavano cercando di coltivarli, di farli crescere, però, evidentemente, non funziona, Mi ha messo un cartello, cosa è sta roba? Quei regali sono per voi che mi fate sorridere ogni, ma che caspita, che, ehm, non so che caspita di cartello fosse questo, ehm, va bene, grazie a chi l'ha scritto, non so chi l'abbia scritto, ma, ma poi che regali, scusate, che, sinceramente, non lo so, vabbè, comunque, sono molto contento che l'abbia scritto qualcuno, adesso, però, forse questo, comunque, non c'entrava col, col video, dobbiamo spiarli, dobbiamo spiarli bene, Guardiamo, ah, stanno facendo cose, bene, questa è una cosa molto interessante da sapere, ok, però, questa musichetta mi piace molto, devo dire, molto Cosa sta, si stanno ancora picchiando, però io, adesso, anzi, sapete cosa ha risposto adesso? Allora, ciao, nonno, e ciao, Nick, oi, ciao, ciao, cosa fate di bello, qua, là, in quella stanza da soli? Eh, stiamo, eh, stiamo un po' giocando, non so, vanilla normale, raccogliendo materiali Ok, eh, devi parlare più forte, perché io non ti sento No, chi a me, no, scusami Eh, infatti, c'è sconvolto totalmente, quindi stavate giocando vanilla normale, ho capito? Sì, sì, sì No, perché io sono, tipo, qua, sempre nel vanilla, chiaramente, no? Eh, sì, infatti, ti vediamo Sì, sono in tab, ma, chiaramente, io sono molto distante, anni e anni, luce e distanza, praticamente, perché sto esplorando nove terre, alla scoperta di nove terre Sei morto, nonno? Eh, sì, perché è un po' agitato, Nick, con la sua spada strana Eh, ma non è che sono agitato, mi rompe le cose e, ovviamente, io lo ammazzo Eh, poi, dopo, magari, lo dovevamo giustiziare nella... Eh, no, ma come? Sì, sì, sì È lui che mi ha ucciso Eh, per forza, eh, non lo so, magari, c'è, Nick, vergognati di uccidere Eh, ma è lui che mi sta rompendo le cose Cosa ti sta rompendo? Cioè, Nick Eh, sì, parla bene, uè, quanto parli bene tu Non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo come si chiama Eh, vabbè, comunque, la Soul Sand Era meglio se non parlavi, comunque, vabbè, comunque, allora, mi dissocio Ehm, niente, questo, va bene, ok, allora, ci sentiamo dopo Va bene, va bene Fatemi sapere se succede qualcosa di particolare E niente, a dopo, ciao, ciao Ciao, ciao Ok, allora Stanno continuando a picchiarsi in perterrito Io spero che facciano qualcosa di più del picchiarsi Cioè, nel senso, io vorrei dire adesso No, perché, cioè, nel senso, è una noia totale e mortale Vedere loro che si picchiano e si, si Ehm, ma cosa, perché Nonno sta salendo la montagna? Sta andando, eccoci Ancora, ma Nick è proprio un, un, un perverticio Guarda, eh, perché sta andando lì? No, 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 no Voglio vedere dove sta andando Nick E perché? Ok, si sono separati un attimo, vedo Nonno praticamente è andato Allora, Nick sta nella sala delle torture Praticamente si sta chiudendo dentro Bene, io invece direi di aprire le porte Perché non può chiudersi dentro Cioè, nel senso, voglio vedere cosa sta facendo Nonno sta venendo Oh mio Dio Allora, ok, perfetto, perfetto Ok, Nick è andato da questa parte E io mi dissocio totalmente da ciò che sta facendo È andato a torturarsi proprio Oh mio, avete capito che tipo di tortura si è cacciato lui? Cioè, allora No, sta arrivando Nonno, raga Raga, no, non mi dico No, raga Raga Nonno sta guardando Raga No, io mi dissocio No, raga Raga No, 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 no Qua non va bene Non va bene Poi sta tenendo un libro in mano No, vabbè Lo sta Ma cosa Ha messo un libro sulle... Non ci voglio credere Raga Raga Ma che cazzo Che te mi state dicendo? Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Cioè, è vero, ma stiamo scherzando Ma sta roba io non me la sarei mai immaginata Ma sti qua stanno proprio Cioè, proprio insieme Che proprio Guardateli ancora lì che stanno facendo cose Oh santo cielo, Nora Ok, allora Io Io mi dissocio totalmente da ciò che sta succedendo Scusate se mi vedete sconvolto Ma è ciò che sono veramente Ma sono sconvolto Ma è normale essere sconvolto per una situazione di questo tipo Ma vuoi vedere che non ti sconvolgi per una cosa del genere? Cioè, porca miseria E stanno continuando No, vabbè Ok, allora Prima di tutto devo leggere il libro Perché questo libro Nasconde cose inimmaginabili Secondo me Sinceramente Io voglio proprio capire cosa stanno facendo Però Vabbè Prima di tutto leggiamo il libro Allora Ci vediamo domani Puntini puntini Oddio Aiuto raga Ci vediamo domani Puntini puntini Al chiaro di luna Tesoruccio Anche lino Bene Vedremo quanto luminosa Sarà la luce passionale No, vabbè Poi bacino Ma stiamo scherzando Faremo un rituale magico Puntini puntini Molto magico E occhiolino Con sorriso Oh santo cielo Abbiamo capito tutti Abbiamo capito tutti quanti Di cosa si può trattare Questo rituale Al chiaro di luna No Il rituale Sì Vabbè Anzi Adesso li sposto Ciao nonno E ciao Allora siete molto simpatici Perché vedo che uno sta cercando di dormire Praticamente Cosa stai facendo Io stavo cercando di dormire Ah cosa stai facendo Dite un po' Stupire Non ce la fa dormire Eh sì Sono un po' Un po' Lentino Non so fare ecco E perché cosa state cercando di fare Scusatemi Eh eravamo un po' Ad esplorare Ahà A fare nuove esperienze ecco A fare nuove esperienze Ho capito Beh sì Giustamente Perché poi dopo Esplorando su minecraft Si fanno nuove Stiamo cercando di fare le cibi Eh certo certo Beh normale questa cosa Dopotutto comunque A volte queste esperienze Portano talmente tante belle emozioni Che si Che si Devono fare per forza Se È una cosa Molto bella Secondo me Da questo punto di vista Queste esperienze Soprattutto tipo Esperienze magiche Che appunto Non possono mai appunto Essere ignorate No Eh no hai ragione Io in questo momento Sto vivendo un'esperienza magica Con Un polpo Perché Cosa stai facendo col polpo? No niente In poche parole Stavo Dato che ha dei tentacoli Molto grandi Stavo cercando di capire Come Dove si possono mettere Questi tentacoli E quindi Chiaramente No 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 Cosa No praticamente Io stavo cercando di capire No la serratura della chiave Perché io praticamente Qua ho una cesta Che tipo Apro E praticamente Vedo Le cose Quindi metto I tentacoli Nella serratura Della chiave Della cesta E quindi praticamente Succede tutta una situazione strana Che in poche parole Il polpo Apre la cesta Sì Sì capito C'è una cosa veramente È bellissimo Come esperienza È magica È molto da fare Secondo me Perché dai emozioni Fa capire Quanto vasto sia il mondo E quanto bello Va bene E quindi voi state facendo Un'esperienza del genere Quindi giusto? Sì più o meno Più o meno Cioè più o meno Sto vincendo gli achievement Gli achievement Eh che tipo di achievement Eh non si possono dire Ah ho capito Perché è un segreto Per farti una sorpresa Ho capito Bello Eh esatto esatto Un grandissimo sorpresa Ok vabbè Ho capito Grazie È bella che non ti potresti mai immaginare Uh bene Sono contento di questa cosa Sono molto felice di scoprirlo Sì Allora niente Ci sentiamo dopo Ciao ciao Ok Adios Ciao ciao Robo Allora a parte Chiedo scusa Per la storia del polpo So Che magari potrebbe essere stata fraintendibile Però praticamente mi dovevo mettere sulla loro stessa linea No? Perché se no poi dopo magari non riuscivano a raccontarmi Con dovizia di particolari Il tutto No? Cosa stavano facendo Invece io proprio Volevo che loro mi raccontassero Perché Se no non me lo raccontassero Io mi dicevo che Stavo andando a scavare in miniera Cioè vabbè Nel senso Ok Invece loro cosa stavano facendo Si stavano facendo cose A vicenda Insomma Cioè ci stiamo capendo Di che tipo di cose si trattano Vabbè Comunque Io direi Perché però per questo video Mi dissocio Totalmente Ma proprio tutto Da tutto il video mi dissocio Spero che si dissociino anche loro Perché Sicuramente si dissociano Perché loro Io li conosco E E questo Oh mio dio Ecco appunto Stavano Vabbè Stavano facendo altre cose col letto Non voglio sapere che cosa E quindi ragazzi Fatemi sapere se volete vedere Che dispiamo ancora Per vedere le loro altre Immagini Immagini Che sono molto particolari E belle E quindi noi E niente Ci vediamo ad un prossimo video Scrivetemi nei commenti Mettete tanti bacetti Nei commenti Per simboleggiare il tutto Eccolo qua Un amore passionale Che fa uccidere Il proprio amante Che fa uccidere Che fa uccidere Che fa uccidere